La ragione la quale i critici americani si sono scagliati contro questo film in modo così vehemente sta nel fatto che aveva mostrato il tedesco superiore agli altri personaggi. Ora nel 1940-41 i francesi erano stati sconfitti e gli alleati si trovavano in condizioni disastrose. Del resto il tedesco che all'inizio li faceva passare per un semplice marinaio era stato un comandante di sottomarini. C'erano dunque tutte le ragioni che fosse più qualificato degli altri per prendere il comando della scialuppa ma evidentemente i critici hanno pensato che un nazista cattivo non poteva essere un buon marinaio. Il film ha ugualmente riscosso un certo successo a New York ma non poteva essere molto commerciale. Non fosse altro che la scommessa tecnica che lo caratterizzava. Non ho mai ripreso il battello all'esterno.